Mentre sua sorella le sta leggendo un libro, Alice vede un coniglio bianco che fissa un orologio e dice che è troppo tardi. Alice lo segue nella sua tana, cadendo giù atterrando in una stanza con molte porte. Trova quindi una chiave con la quale può aprire la porta più piccola, ma non può entrarci. Poco dopo trova una bottiglia il cui liquido la fa impicciolire. Alice diventa quindi abbastanza piccola per entrare nel paese delle meraviglie, che pullula di paradossi e assurdità. Diventerà enorme a casa del coniglio bianco, quindi di nuovo piccola per fuggire nella foresta e incontrarà un bruco magico che l'aiuta a tornare normale. Incontrerà lo stregatto che le dirà di recarsi dalla lepre marzolina e dal cappellaio matto che stanno festeggiando e bevendo del tè. Lascerà la festa spazientita per arrivare dal re e dalla regina di cuori, che vuole attagliare la testa a qualcuno. Giocherà croquet con animali e persone che sembrano carte da gioco, usando un fenicottero come mazza e un riccio come palla. Tutti i trenalici insomma verranno condannati a morte dalla regina di cuori, ma perdonati dal re di cuori. E dopo un altro processo in cui il fante di cuori è accusato di aver rubato la regina, Alice, chiamata come testimone, causerà nuovamente un pasticcio prima di svegliarsi nuovamente accanto a sua sorella.